Vi dice nulla questa skin che ho selezionato ragazzi? Beh, perché dovrebbe. Allora, è una skin di un vecchio pass battaglia, precisamente dell'ottava stagione del capitolo 1 di Fortnite. Ed assomiglia moltissimo, tant'è che io appena ho visto, pensavo fosse proprio lui, ad un boss che è presente attualmente in mappa. Perché tutti ci siamo concentrati a vedere la Slona che è presente alla Fortezza e Gunnar che è presente alla Caverna di Comando. O meglio, che è rimasto alla Caverna di Comando dalla scorsa stagione. Ma c'è un terzo boss, sempre in questa zona e sul dirigibile di Caverna di Comando, che è praticamente identico a questa skin qua. E che ha una particolarità, di cui appunto andremo a parlare proprio quest'oggi. Prima di iniziare quel video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY, tutto attaccato, è un negozio oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi. Quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGY, tutto attaccato, perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie per il cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Lasciate un bel mi piace per supportare il video, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate dei boss attuali in mappa e soprattutto del fatto che sono tutti e tre praticamente nella stessa zona di mappa. Ok raga, premetto che in realtà questo video lo volevo fare in un server privato dove me ne andavo tranquillo solo soletto al dirigibile della caverna, vi faccio vedere il boss e facciamo una cosa abbastanza blanda. Ma poi ho detto, perché non complicarci la vita? E quindi eccoci qui in una partita in solo. Quindi verrà un sacco di gente al dirigibile della caverna e ci complicheremo la vita da soli. Tra l'altro sto giocando da mouse e tastiera perché sì. Ultimamente non so più che cosa fare ragazzi, sono diventato matto quindi giochiamo da mouse e tastiera. Non perché mi sia spostato definitivamente ma semplicemente perché mi gira così oggi. E andremo a trovare, come vi dicevo, il boss del dirigibile appunto a caverna di comando. Qui ragazzi. Ma già ci avevo fatto un video sul boss del dirigibile raga. Già vi avevo fatto vedere come combatteva, vi avevo già fatto vedere l'arma mitica che rilascia e tutto quanto. Ma oggi ne andremo a parlare in maniera un po' più approfondita perché innanzitutto è praticamente uguale a questa skin che sto utilizzando io. Tra l'altro bono come il pane sto pump. E poi perché appunto utilizza quello che è praticamente a tutti gli effetti il potere di Spider-Man ragazzi. Cioè questo boss qui, cioè di Spider-Man scusatemi, di Wolverine. Come se stesse utilizzando il potere di Wolverine. No regà! Vabbè ormai me li so fatti. Non mi ero ricordato che avevo trovato gli scildini. Dov'anna così va bene. Magari me li faccio dopo che il boss mi devasta perché regà il boss è molto forte. Quasi quanto Wolverine raga. Se non quanto Wolverine perché ha un sacco di vita e c'è anche l'arma che può utilizzare. Ma dov'è il boss regà? No quello, la vita che vedo perdere lì dovrebbe essere quella di Gunnar alla grotta appunto. Però qui in giro ci dovrebbe essere il boss del dirigibile regà. Perché non lo sto trovando? Dove sta? Regà ma che l'hanno già ucciso? Non ci credo c'è un sacco di vita quello. Regà perché non lo... Ah no aspettate questo è un avversario. Questo è un avversario che dobbiamo prontamente killare di brutto. Ma non stiamo trovando il boss regà che in realtà era la nostra missione principale. Anche questi passi veloci non credo siano il boss. Infatti non lo sono. Ho finito i colpi sono un pollo della mitraglietta perché non l'ho ricaricata. Ok. Ma che cosa sta facendo? No l'ho lisciato di brutto regà! Vabbè se ne vuole andare regà vuole scappare io lo lascio scappare. Ma non sto trovando il boss ragazzi! Eh vabbè niente un altro. Un altro ragazzi. Vabbè io sto qui a uccidere la gente ma non me ne frega niente. Non luto neanche ragazzi. Perché non c'è il boss? Ma non ci sono neanche gli scagnozzi. Ma che se è buggato? Raga ma non ci credo. Se è tipo buggato il dirigibile, la zona. Sta ancora più sotto? Non lo so. No. Tecnicamente stava tipo sopra. Cioè l'ho sempre trovato quando sono venuto qui regà ma sempre eh? Perché ste cose strane succedono sempre quando devo registrare? Eccolo! Eccolo regà. Cioè allora guardate un attimino com'è. Vedete che è praticamente uguale alla skin che sto utilizzando? Cioè è praticamente uguale al personaggio della skin che sto utilizzando io in questo momento ed utilizza il potere di Wolverine regà. Cioè ora mi sta sparando e vabbè. No eccolo. Ecco il potere di Wolverine regà. È identico. Anche nel recuperarlo. Oh mio Dio. Ma parte. Eh? Oh mio Dio. Ma guarda quanto vado veloce. Eh ti vedo. Hai tutta Laura attorno poi. Ok così fa quello e così fa... No regà è devastante. Recuperarlo inteso ricaricarlo. Quando lo uccidete vi dà quest'arma mitica comunque nel dubbio. Io vi avviso. Anche se ribadisco già ci avevo fatto un video sulla sua arma mitica. Ragà tutto questo per dirvi cosa un po' di tempo fa o meglio nelle ultime GG News perché ne abbiamo parlato parecchio a riguardo vi avevo parlato del fatto che sarebbe tornato il potere di Wolverine perché era stato ritrovato nei file di gioco. Praticamente Epic lo stava rilavorando. Il problema è che adesso avendolo su questo boss cioè essendo che il potere ce l'ha questo boss è molto probabile che Epic stesse lavorando al potere di Wolverine per tra virgolette darlo a questo boss che ribadisco assomiglia tremendamente a questa skin della stagione 8. Ma non è detto ragazzi perché tra le altre cose io vi ricordo che è stato legato uno dei fumetti che dovrebbero uscire a giugno quindi durante la prossima stagione quindi non quella attuale perché quella attuale finisce intorno al 3 giugno se non sbaglio il 6 giugno il 3 giugno comunque inizio giugno mentre i fumetti dovrebbero uscire comunque sia inizio giugno ma non so se proprio in quei giorni quindi dovrebbero uscire intorno alla già uscita della prossima stagione e c'è Wolverine ragazzi ci sono Spider-Man c'è Wolverine ci sono altri personaggi e solitamente comunque quando ci sono queste cose nel fumetto anche nel gioco potrebbero esserci dei riferimenti ora questo non possiamo saperlo però possiamo tranquillamente immaginarlo quindi lo avremo di nuovo il potere di Wolverine in game oppure semplicemente ci dobbiamo accontentare di un boss che lo utilizza ma non possiamo rubarglielo perché come vedete quando lo andiamo ad uccidere non ce lo rilascia ma soprattutto perché anche Fondazione ci scamma ragazzi praticamente Fondazione che durante questa stagione non è un boss ma è un NPC voi ci potete andare a parlare in mano avrà comunque l'MK7 voi lo se lo fate arrabbiare tra virgolette lui vi pusherà e vi pusherà con un MK7 ma se lo uccidete vi darà un AK uno scam pazzesco anche di questo ragazzi ne abbiamo già parlato in uno degli scorsi video proprio in quei video dove vi parlavo delle nuove armi mitiche di dove vi parlavo delle nuove novità e boss e quindi questo è quello che dobbiamo tra virgolette sapere a riguardo appunto dei nuovi boss delle nuove armi e di tutta questa roba qui che ne pensate raga? a me sinceramente fa un po' storcere il naso tutto ciò perché comunque è abbastanza particolare la situazione spero che ci sia comunque una spiegazione tra virgolette dubbio raga quello che cos'era uno shieldone si uno shieldone stavo per dire nel dubbio vado in safe ma se vedo uno shieldone raga mi fermo un attimo mi faccio lo shieldone e poi andiamo in safe e direi che ormai sta partita possiamo anche concluderla comunque ribadisco la prima volta che ho visto questo boss utilizzare il potere di wolverine io ho detto va bene ok quindi adesso ce lo droppa cioè se lo uccidiamo ce lo dropperà e quando non me l'ha droppato la prima volta ragazzi ci sono rimasto troppo male certo c'è un'arma mitica e quindi comunque tanta roba però aspettate raga questo mi ha visto o non mi ha visto si che mi ha visto e l'ho anche lisciato eh ok l'avevo lisciato ma bene o male ce la siamo cavata abbastanza bene non ci possiamo lamentare grossa kill da parte nostra andiamo a 3 siamo rimasti comunque in 30 e potevo anche puntare alla mitraglietta di gunner gunner guido come lo chiamiamo noi però la safe era lontana quindi ho detto lasciamo stare quindi ragazzi a questo punto direi di vedere com'è la situazione qui con la slon raga ma veramente c'è il vampa mitico così beh raga io preferisco il vampa mitico sinceramente cioè l'hanno lasciato così ma che è successo molto ambigua sta situazione eh a dir poco ambigua ragazzi c'è chi ha ucciso la slon che armi deve avere per rifiutare un vampa mitico l'altro fucile a termico mitico ce l'avevo io quindi neanche a dire che aveva un'altra arma mitica per sparare da lontano o magari sta giocando senza assalti o banalmente dopo aver ucciso la slon è morto ah ma certo raga che è morto perché dovrebbe averlo ucciso quello che poi abbiamo ucciso noi ecco che è successo raga probabilmente quello che abbiamo ucciso noi ha ucciso o la slon stessa o qualcuno che aveva ucciso la slon e quindi nessuno si è andato a prendere il vampa mitico vabbè ok adesso mi è tutto più chiaro dopo aver analizzato la situazione comunque raga io per carità vi posso consigliare oddio raga c'è un pump sott'acqua lol io vi posso consigliare anche i pump che spammano però se c'ho questo leggendario e gli altri pump che trovano sono bianchi e verdi a quel punto mi tengo questo che debbo fare passi qua raga passi passi dove sta dove è andato questo qui di qui eh 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 l'ho lisciato di brutto preso pieno ma gli ho fatto pochissimo danno raga con due di vita è rimasto è rimasto con due di vita ma l'avevo preso pieno col pump leggendario gli ho fatto pochissimo danno dai però ragazzi che sfiga con due di vita no dai con due di vita no però che sfortuna raga che poi avevamo laserato di brutto lui con l'automatico blu questo qui che spamma ha fatto più danno rispetto a me con quello leggendario a colpo singolo raga vedete perché io vi consiglio quelli spammoni perché almeno anche se fanno pochi danni state lì e spammate e poi spesso e volentieri fanno anche più danno invece di quest'altro vabbè raga detto questo doveva andare così alla fine non è stata neanche malaccio come partita vi ricordo ovviamente il codice creatore gg y non ti tutto grande tutto attaccato nel negozio oggetti di fortnite fondamentale per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non è stato fatto lasciate un bel mi piace ma soprattutto fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questa situazione col potere di wolverine e col fatto che quella skin assomiglia abbastanza anche a questa qui del primo capitolo della stagione 8 per me è tutto noi ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzi ciao